E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in un video particolare perché praticamente sono con il mio Hunter e andremo a cercare di tamare, cioè praticamente far diventare il nostro, un bet molto molto particolare, cioè Fenrir. Questa ficata di lupo però, ovviamente essendo molto bello, ha moltissime particolarità, come per esempio che si trova all'interno di un dungeon mitico, che dobbiamo farlo da soli. Mi sono guardato proprio adesso una guida in cui un Hunter che era tipo 910, 911 item level è riuscito a completarlo relativamente facile. Io però sono 906, ho un solo leggendario che sono questi pandroni che ho roppato l'altro giorno e vabbè non vi ho condiviso, qui intanto mi stanno venendo addosso, state calmi, ok? Ogni mob ha 10k di vita, che 10.000k di vita. Però ovviamente noi non è che possiamo clearare tutti i pull normalmente, ma ovviamente dobbiamo utilizzare la nostra feindette, quindi l'abilità che ci fa togliere l'agro a tutti, specialmente nella prima parte iniziale. Quindi questi due primi stronzi dobbiamo ammazzarli normalmente. Ah, intanto ne approfitto per ringraziare un mio scritto, cioè Keirisophos, spero di aver detto il tuo nome bene, perché mi ha donato gentilmente diverse flasche, già questa qua su, questa pozione per evitare di crepare e quest'altra che è un po' più particolare perché abbiamo iniziato a 2.000 magari sul boss che tra poco faremo può essere utile. Quindi noi andiamo subito a provare ad ammazzare tutti questi stronzi. Pet, fai il tuo lavoro, grazie, grazie mille. Ah, questi sono relativamente semplici, mi stanno ammazzando il pet. Eh, perché, perché vieni su di me? Perché? Levati ai coglioni, levati, levati. Tanta, tanta, coglione, ok. Io spero vivamente che il nostro pet non crepa troppo velocemente contro il boss che faremo dopo, perché quando ho visto adesso ho preso un sacco di schiaffi. Ok, i primi due mobile li abbiamo fatti abbastanza facilmente. Adesso dobbiamo praticamente arrivare davanti al boss, togliendo i nostri pet perché ci aggrano mezzo mondo. E una volta arrivati là davanti dobbiamo premere la nostra feindette. Vediamo se riesco a non grepare come uno stronzo. Ti prego non mi smontare, ti prego, ti prego. Dobbiamo arrivare più avanti, più avanti, più avanti. Eeeh, qui. Via, 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 via. Ok, 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 dovremmo, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Se quel tornado di merda sparisce, vai via, su, su. Ah, mi sono ascoltando una cosa, cioè di mettere la spec del nostro pet su Tenacity. Ecco perché prendeva tutti quegli schiaffi, perché comunque si deve tantare un boss di una mitica, quindi deve essere abbastanza cazzuto. Allora qui sicuramente mi sparerò la nostra pozzetta qui super potente. E niente ragazzi, GD ci sono, partiamo. GD ci sono, partiamo. GD ci sono, partiamo. Vediamo come va a finire. Vedete, a untare immediatamente, perché già mi sono preso una mina in testa. Oh, ma perché non tauntate, brutti rincoglioniti? Guarda, guarda, non tiene l'aggro, ma perché? Oh. Ma perché non tiene l'aggro? Perché non tiene l'aggro? Perché non tiene l'aggro? Perché non tiene l'aggro? Allora riproviamo, porco di quello lassù. Ok, siamo qui davanti al suo stronzo supremo. Chiamiamo il nostro pet ridicolo. Non lo so, magari adesso aspetto un attimo. Allora, ci riproviamo. Addosso pet, fate il vostro lavoro, dai. Ok. Ma perché non parte il town? Io mi incazzo, eh. Prendo aggro, prendo aggro, prendo aggro subito. Ma ammazza il pet, ma ammazza il pet, ma ammazza il pet. Ok, forse sta tenendo l'aggro il pet di merda. Sì, ma me muore. Me muore sicuro. Oh, 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 oh. Sono un pollo. Me muore, me muore, me muore, me muore, me muore. Ecco, ecco. E me ne rompe il cazzo. Allora, la dancing blade lì non mi ispira per niente. Non è che sia proprio facilissima la cosa, devo ammettere. Spariamo giro la nostra pozzetta della vita. Sicuramente dovete tenere sempre acceso il fatto... Porca puttana, pure io sono scarso. Mi sta un po' panicando la cosa qui, perché non la vedo parecchio semplice, anzi. Ok, quello l'ho schivato. Eh, ma me muore sicuramente, perché tra un minuto non ci arrivo manco morto. Porca cazzozona malefica. Venite un po' qua, brutti rincoglioniti, va. Or no valor, eh, un attimo. Me muore, me muore, me muore, me muore. Me muore. Me muore sicuro? No! Sto cliccando, ragazzi, lo so. Non mi rompete il cazzo, un attimo. È particolare questo momento. No! Sono morto, sono morto. Ah, vaffanculo, io ci riprovo un'altra volta, dai. Forse ho sbagliato qualcosa, dai, non lo so. Non lo so. Allora, dobbiamo sicuramente gestire meglio questa abilità, perché prima lo sparateva quando stava tipo a 50% HP, non va bene. Questa la devo sparare tipo quando stanno per crepare, così che intanto si ricenera e resiste. Sicuramente ho gestito male questa, questa è un'abilità cruciale. Aspettiamo poi che ci torna questa, perché è una specie di last hand, quindi gli spara la vita a 2000. Un attimo, bisogna gestirla un po' meglio. Sì, però ancora 3 minuti, io muoio di vecchiaia a 3 minuti. Allora, ci riproviamo, ragazzi. Questa qui ridà il 100% della vita del pet, che è tantissimo. Quindi dobbiamo sparare esattamente dove il pet è stato io per crepare. Vai, ci riproviamo. Porca puttana, ho sbagliato già. L'ho mandato tipo in evade, ok. A mo' dovrebbero spawnare, credo, spero. Ok, eccolo lo stronzo è tornato. E allora vai, addosso pet. Fate qualcosa nella vostra vita. Taunt. Facciamo partire tutti i vari cd del caso. Quindi Rage. Questo. Già sta prendendo schiaffi negri, proprio negri. Io prendo aggro, prendo cazzo aggro. Non mi taunt, taunt cazzo questo pet malefico. Oh, 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 oh. Ecco me l'ho preso sui denti, mannaggia a me. E' impossibile, è impossibile. È impossibile, è impossibile. È impossibile, Dio buono di Dio. Non mi taunt, taunt cazzo quel pet di merda e mi fate concentrare. Mi viene addosso il cazzo dei boss. Io non sto attendo quelle merda di aue che arrivano da tutte le cazzo direzioni. Me ne arrivate due di seguito. Com'è possibile? Mi sono arrivate due aue di seguito. Non mi ricordo un cazzo di sto boss. Porco di quello, porco. Me ne frega un cazzo, ci riprovo. Che se no mi tocca aspettare quando ho più item level, semplicemente. Eh, mo' muoio qui, guarda, eh. Guarda, eh. Beh, ok. Allora, Dio bonino, ci riproviamo per la sessantesima volta. Quindi, pet del cazzo, andate avanti. Veloci. Tauntate questa fogna. Ma perché prendo aggro? Perché? Cristo di Dio. Non devo prendere aggro. Faccio zero danni. Guarda, guarda. Ma perché? Oh, ho fatto crawl. Ho fatto cazzo. Basta, 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 basta. Mi sono rotto i coglioni. Basta, mi sono rotto i coglioni. Basta. Basta, Dio bono. Come cazzo è possibile? Prendo. Basta, vaffanculo. Ciao. Ciao. Ciao.